Musica 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 tutte le prove del Nakia Nukata del gruppo 1 e poi sul Tatami 2 inizierà il Nakia Nukata del gruppo 2 inizierà anche sul Tatami 2 è terminata la prova della coppia e adesso è la prova della coppia spagnola formata da Jesus Martinez e anche del Venegas in Spagna make one for Spain Jesus Martinez e anche del Venegas si ultima anche ultimata anche la prova sul Tatami 4 della coppia volandese e adesso è la volta del Belvercio con la coppia formata da Vincent Montez e Thierry Genone made for for la pension Vincent Montez e Thierry Genone grazie a tutti Grazie. 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 Grazie.